Allora, trasformazioni di Galileo. Cerchiamo di capire bene di che cosa si tratta. Sono quelle trasformazioni matematiche fra le coordinate di un sistema di riferimento inerziale e quelle di un altro sistema di riferimento anch'esso inerziale, quelle trasformazioni che mi permettono di sapere, facendo le misure nel mio sistema di riferimento, come l'altro misurerebbe questo stesso fenomeno. Quindi, confrontare i punti di vista, io lavoro nel mio sistema ma posso sapere come l'altro interpreta questo studio. E allora per farlo, ho già scritto per non mettersi poi troppo tempo, bisogna precisare che ci sono in questi ragionamenti tre attori, cioè c'è un sistema di riferimento inerziale, quello solidale con l'osservatore O. Poi c'è un secondo osservatore, O' che viaggia anche lui con il suo sistema di riferimento inerziale. O' si porta dietro delle coordinate che chiamiamo x' o y'. Questi due sistemi di riferimento sono entrambi inerziali, quindi vuol dire che uno rispetto all'altro si muovono di moto rettilineo uniforme, altrimenti non sarebbero inerziali. Tutti e due, tanto O quanto O' primo, stanno studiando il moto di qualcosa, ad esempio di un punto P. Per fare un esempio concreto, o potrei essere io fermo sulla terra, o primo potrebbe essere un viaggiatore che si trova su un treno e che rispetto a me si muove di moto rettilineo uniforme. E tutti e due stiamo guardando fuori dalla finestra o dal finestrino e studiamo il moto di un drone che si sta muovendo nelle nostre zone. Quindi io sono un osservatore, lui è un osservatore e tutti e due stiamo studiando P, il quale P non è obbligato a muoversi in nessun modo particolare, cioè lui non deve muoversi di moto rettilineo, lui può muoversi come vuole, potrebbe essere un qualcosa che sta accadendo. Lui è l'oggetto del nostro studio, l'unico vincolo sulle velocità ce l'hanno i due osservatori che si devono muovere di moto rettilineo uniforme. A posto fin qua? Un po' di semplificazioni. Allora la semplificazione che facciamo è questa, per evitare che ci siano troppe complicazioni iniziali, noi immaginiamo che nell'istante in cui l'orologio di O e l'orologio di O' segnano 0, quindi quando si parte con l'esperimento, O e O' come sistemi di riferimento coincidano. Quindi nell'istante 0 gli assi coordinati di O si trovano qui e gli assi coordinati di O' si trovano qui, cioè sono sovrapposti uno con l'altro. Da quel momento in poi il tempo scorre per entrambi, allo stesso modo ovviamente, e uno si muove rispetto all'altro. Ovviamente non è che O primo parta da quel momento perché altrimenti accelererebbe, lui si muoveva già e per un attimo sono stati insieme. Questa semplificazione ci permette di togliere un po' di termini nelle trasformazioni. Allora se tutti e due studiano P, cominciamo con la misura più semplice, la posizione. Secondo l'osservatore O, P è individuato da un vettore posizione che chiamiamo S. Invece secondo l'osservatore O primo, P è individuato da un vettore posizione diverso che si chiama S primo. Ognuno vede P in una posizione diversa. Quando dico vettore posizione, le sue componenti sono x, y e z, cioè le coordinate spaziali. Nel frattempo però, mentre facciamo la fotografia di questa situazione, O primo si è spostato rispetto ad O. Con una velocità che possiamo chiamare velocità di trascinamento, che indichiamo con V. E siccome questa velocità è costante, lo spostamento che O primo ha fatto, può essere rappresentato con questo vettore spostamento, che sarà dato da V per T. C'è un legame, allora, fra le visioni di O e quelle di O primo? Evidentemente sì, se guardate, i tre vettori formano un puntacoda, vedete, VT, sulla punta di VT si mette S primo, e questo vuol dire fare la somma di due vettori. Quindi quello che possiamo dire è che il vettore S è dato dalla somma degli altri due. E quindi questa cosa ve l'ho scritta in questo modo. S, la posizione giudicata dal mondo di O, dal suo sistema di riferimento, è uguale a S primo, cioè la posizione come è vista da O primo, più V per T. Questo è il legame fra le coordinate, senza dimenticare mai che per entrambi il tempo scorre allo stesso modo. Questa è una cosa che finché non è arrivata la relatività nessuno avrebbe mai nemmeno scritto, cioè questo era ovvio che il tempo va uguale per tutti. Naturalmente questo vuol dire che se io conosco le misure di S primo, perché lui ad esempio me le comunica via radio, io posso sapere in che modo sono collegate con le mie misure. Cioè i due sistemi di riferimento, pur dando misure diverse, però hanno dei valori che si collegano uno all'altro. Questa prima versione cosa mi permette di sapere? Date le misure di O primo, di risalire alle misure di O. Se faccio la formula inversa, cioè praticamente ricavo S primo, vedo che dal punto di vista del sistema S primo, le sue misure sono legate a quelle di O da questo, S meno V per T. È la formula inversa di questa. Però normalmente queste trasformazioni di Galileo non le trovate scritte tanto con i vettori, ma le trovate scritte con le componenti. X, Y, qualcuno ci aggiunge anche Z. Praticamente che cosa si tratta? Si tratta di sostituire alla relazione fra vettori la relazione fra componenti. Quindi la X misurata da O primo è uguale alla X misurata da O meno VX per T e così via. Questa è la forma in cui di solito si mette. Il fatto è che anche questo risulta ancora un pochino troppo complesso. E allora si cerca nelle presentazioni delle trasformazioni di Galileo, poi anche quelle di Lorenz, di semplificare ancora. Cioè si mettono gli assi X nella direzione della velocità. Nessuno vieta agli osservatori di orientare i loro assi X, Y e Z come vogliono. Quindi la scelta che facciamo è quella di mettere l'asse X nella direzione della velocità. In questo modo tutto risulta ancora più facile. Vedete che qui manca un V, T, aspettate che ve lo aggiungo qua. Questo è V per T. La relazione fra le visioni, le posizioni rimane sempre la stessa. Solo che tutto risulta più facile dal punto di vista delle componenti. Guardate come diventano queste relazioni. X primo, cosa sarebbe X primo? Sarebbe questa cosa qua. Cioè la coordinata X del punto P. E risulta uguale a X, cioè questa cosa qui. La coordinata X. Meno V per T, che è questo. Quindi vedete che le relazioni diventano proprio molto, ma molto semplici. E queste sono quelle che si chiamano trasformazioni di Galileo. Quindi cosa sono le trasformazioni di Galileo? Sono quelle relazioni matematiche per cui io posso passare dal punto di vista di un sistema di riferimento inerziale a un altro. Riepilogandole, in che forma dovete ricordarle, questa è quella in cui tutti le ricordano. X uguale a X primo più V per T primo o V per T, perché tanto è la stessa cosa. X uguale a X primo più V per T. E ovviamente in questa nuova versione dove noi abbiamo messo l'asse X nella direzione di V, la Y primo, che sarebbe questa, coincide anche con la Y, perché nel sistema di riferimento di O anche questa sarebbe la Y. Quindi ci togliamo di mezzo le coordinate Y ed eventualmente Z, ragioniamo soltanto su X e su T. Grazie. Grazie.